Abbiamo fatto e abbiamo chiesto mesi di sacrifici, ci siamo chiusi in casa tre mesi, abbiamo accettato l'elemosina dei 600 euro, siccome stiamo uscendo da questa situazione di emergente e non sapete come mantenere la poltrona, allora importate il covid. Guardate, non è una questione di razzismo, ma è una questione di buonsenso e di sicurezza sanitaria pubblica.